Polpo Alclan, trapasso di cutro da parte della Polizia di Stato, effettuato un maxi sequestro da 8 milioni di euro tra Crotone e Perugia. Partecipa ad una rissa avvenuta nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, benché per settore di pensione di invalidità per cecità totale, per questo è stato denunciato per tuffa aggravata. L'imprenditore Gregorio Lillo Odoardi, titolare dell'omonima azienda Vinicola, è stato assolto dal reato di abuso d'ufficio in concorso dal Tribunale di Amezzaterme perché il fatto non costituisce reato. Quarantenne aggredisce una dottoressa al pronto soccorso bloccato dai carabinieri e accaduto all'ospedale annunziata di Cosenza.